Cambia la prospettiva, cambiano le finalità dello sciopero generale annunciato dal Comitato per la Sanità a fronte del documento ufficiale che sancisce il declassamento del Giovanni Paolo II ad ospedale di base. Altro che bozza, come hanno ripetutamente sostenuto nelle ultime settimane, il presidente Crocetta e l'assessore Gucciarti. Adesso, dice Franco Zammuto, segretario della Camera del Lavoro di Sciacca, lo sciopero si deve fare per contestare una decisione già presa. Quando appunto ci siamo riuniti nell'incontro che doveva avere il Comitato per vedere le strategie da portare avanti è stata portata questa novità, questa novità che acquisita abbiamo capito che la strategia cambia, non tanto nella forma perché è sempre lo sciopero che dovrà sancire la protesta del territorio per le decisioni non più previste ma per le decisioni assunte, quindi diventa anche più grave perché lì dove c'era da intervenire per fare modificare quello che era il progetto regionale della rete adesso purtroppo prendiamo atto che le scelte sono state assunte, ma non solo, questa però la dico come indiscrezione, oltre a questo documento sembra ce ne sia un altro dove sono già previsti i tagli. La cosa grave è che questo viene fatto tutto in sordina e che i cittadini, le associazioni, le categorie sociali, anche le organizzazioni sindacali non vengono messe al corrente di quelli che sono i progetti regionali, addirittura più che progetti diventano dati di fatto, documenti che passano sulla testa delle persone senza che ci sia un confronto. Questa è di una gravità incredibile soprattutto per quanto riguarda questo territorio se consideriamo che un ospedale degno, un ospedale eccezionale fino ad alcuni anni fa oggi già sia aggredito dai finanziamenti, sia aggredito dalle falcidie che stanno operando e che oggi non ha più quello che era stato per tutto il territorio questo ospedale non dà più garanzie, non dà più sicurezza e noi su questo dobbiamo adesso vedere sì lo sciopero, ma lo sciopero che deve essere articolato diversamente dove la classe politica adesso si deve muovere per fare in modo che questo progetto venga ridefinito. C'è una battaglia che deve portare avanti questo territorio per ottenere una classificazione diversa cioè l'ospedale Spock. Una battaglia che si spera sia unitaria? Intanto un assessore ha detto che qualcuno non legge il decreto ministeriale 70 2015 non solo ho letto il decreto ministeriale 70 2015 qualora fosse stato rivolto a me ho letto anche immediatamente questo nuovo documento. Da questo nuovo documento si evince quello che molti spesso hanno detto anche durante il percorso di questa questione sanitaria territoriale che ci sono proprio evidenti comportamenti o meglio scelte che sono pilotate, indirizzate con mire precise. Se noi lo andiamo a leggere, questo resoconto dove lì a noi ci classificano appunto come ospedale riuniti peraltro con un altro, si va a vedere che ci sono tutti i sistemi per fare in modo che questo programma e questo progetto venga modificato e le modifiche qualora dovessimo noi ottenere quello che chiediamo insistentemente cioè di essere un ospedale di primo livello garantirebbe meglio tutto il territorio e sarebbe più coerente con le necessità del territorio. Quindi noi ospediamo che questo progetto, questo già documento che è stato portato vada ad essere modificato per questo adesso la manifestazione che noi organizzeremo quando il Comitato deciderà peraltro io non sono nemmeno il portavoce, forse sto abusando, spero che il Comitato non mi bacchetti per questo io spero che il Comitato si renda conto che la classe politica deve essere tutta coinvolta e noi dobbiamo conoscere qual è la posizione della classe politica del territorio rispetto a quello che oggi è stato già deciso a Palermo come a Roma anche perché questa bozza o questo documento viene modificato a seguito di un incontro che si era avuto a Roma già nel luglio di quest'anno e dopo alcuni giorni da quell'incontro è stato modificato e portato come documento di quella che è la scelta strategica della rete sanitaria siciliana. grazie a tutti